e ciao ragazzi bentornati in nuovo video io sono wow italian e immaginate gli altri come mi chiamano mi chiamano semplicemente wow e detto questo dalla voce della notte oggi volevo dirvi che vi parlo di apex legend e del mio gameplay che vi sto per mostrare un gameplay che ho appena fatto con part finder mamma mia ma perché io dico certe cose vabbè appena fatto con part finder e con la nuova screen che abbiamo acquistato un paio di giorni fa il full metal robot secondo me chiaramente ispirata a rambo e un bel gameplay questo part finder che come ormai sapete è stato nerfato il grappo rampino come lo volete chiamare è stato portato da 15 secondi di cooldown a 35 quindi più del doppio ha perso parecchia mobilità però secondo me all'interno del team è ancora una chiave di volta per finder dato che da molta mobilità tutto il team riesce a spostarlo facilmente niente detto questo se volete lasciarmi un commento mi aiuterete anche a migliorare i video magari anche il mio gameplay vabbè io andrei a vedere cosa ha combinato in questa partita see ya wow 3 2 1 and sorting factory e miei amici brava guarda questo ta na 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 ta na 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 a me piace tantissimo part finder è veramente un personaggio secondo me che spendono un po' più di tempo rispetto agli altri per creare le sue cose lui e secondo me anche brave ci spendono un po' di tempo e comunque è abbastanza chiaro che è sempre stata una delle immagini iconiche di apex legend secondo me all'inizio era blowdown e dopo si sono resi conto che pafander era molto più interessante ed ecco qua un dato guardate che bella la mia bo due pistolate tac dai boom dai che adesso arriva anche il tuo amico dai andiamo usciamo questi qua guarda 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 sono tutti qua guarda guarda sono tutti qua guarda guarda sono tutti qua è andato grande poi dentro va bene ottimo bene rate è in a2 credo io ne ho una caustic 0 non so dove sia caustic chico 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 dove sei come è andato a finire chico ah è qua è qua chico chico non l'abbiamo perso se no qua e me ne faccio ancora uno forse no volevo dire secondo me c'è gente siamo a tante un po' di finto bunny hopping non so come chiamarlo secondo me è qua oh batteria ci piace tu hai bisogno del body shield qua è passata gente qua non c'è niente nulla cosmico anzi me lo prendo io che non si sa mai si riesco a trovare il due tempi come lo chiamo io lo zoomino quello aperto o anche quello circolare non mi dispiace nemmeno quello circolare ma dove sono? sono la sono dai andiamo caprici facciamo tutto il tunnel probabilmente questa è la parte che preferisco di tutta la mappa qua mi sento molto confident sono molto tranquillo e mi piace come è strutturata e le battaglie che si sviluppano qua in giro sono team factory e specialmente questo tunnel con la curva quante volte quante volte ho tirato gli sgaretti qua quante volte e quante volte lo farò chissà se lo succede anche adesso guarda qua qua c'è una barriera io salto qui e questo era una specie questo doveva essere un wall jump cosa che sto provando ormai da una settimana ma non esce cioè esce a caso una volta ogni tanto è vero che due giorni che non lo faccio eh due giorni che non mi esercito sul wall jump ma questo non lo diciamo la maestra qua c'è gianta qua one under per cento che c'è gianta adesso non sopra eccoli spariamogli 15 bene mi hanno dato una bella nelfatina però la aboc prima secondo me era un po' più facile da controllare adesso media lunga distanza è un po' non è impossibile però è qua questi qua ci spingono adesso l'ultimo grande mi faccio dire una bomba di gas lui lo finiamo e lo spara perché Gebrothor è probabilmente uno dei personaggi più pericolosi che uno si può trovare davanti perché specialmente un Gebrothor con uno scudo viola perché o il rilevo rosso e chi lo tira giù? per spalargli i missili atomici sono questo questo è mio guarda che bravo chico questo sei tu o lo distruggo o questo? non morirmi chico 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 ma dove sono? sono sempre stati da questa parte non ci credo bene mancare mancare un sacco di colpi ecco anche Wing Weng dai certo che Mirage dovrei giocarlo un po' non ci ho mai fatto delle partite serie l'ho provato un paio di volte per vedere cosa combina nel fire range con le poligono di tiro ma ragazzi qua se non mi usco da lì dentro mi fanno fuori ok bravo cico 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 dove sono questi qui? dove sono andati? guarda era qui è questo ha quittato ma ha quittato? chi ha ammazzato? è quello che ha ammazzato cico comunque sempre una kill qua bravo abbiamo una bella zipline lì sono già arrivati lì? ma come sono già arrivati lì? ragazzi arrivo eh doppia zipline questi qua adesso non si aspettano che io arrivi io salgo qua ovviamente non si può prendere questo benissimo breve ma lui lo facciamo fuori subito tac questo? che l'ulto è in mezzo alla piazza lì? ecco fatto tu a casa e adesso manca uno ah lo sta facendo ah ok perfetto grande cico 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 eccola qua bene ragazze eeeeee dai questo l'è ammazzato tutto lo meriti peccato perchè ha tutto il set è come un po' vincere la lotteria cosa che non mi è mai successa altrimenti adesso farei questi video dalle Maldive dalla mia casa permanente alle Maldive e mi chiamerebbero wow Maldive o semplicemente wow comunque il e eccolo qua dai dai sparati il med kit non le siringhete ecco il sistema anch'io abbiamo fatto una bella confusione qua eh guarda che qualcuno ha volato chi ha volato? sono scappati? ragazzi secondo me dobbiamo andare ad Harvester cosa mi hai lasciato di giorno? niente non mi ha alzato dai andiamo andiamo a Harvester Harvester comunque il rampino così a 35 secondi lo fa parecchio lento eh più che altro non lo usi più come prima prima proprio lo spammavi dovevi fare due passi e facevi il rampino adesso invece quando lo usi dici ah magari mi serve tra qualche secondo niente 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 dai dalla mia i due punti ecco con pistole improvvisate andiamo la via però la zipline secondo me secondo me si carica molto velocemente quindi non non è ancora vabbè secondo me non è stata è stata un'enerfata importante eh beh una sculacciata con le mie pallotto energetiche uuuuuh ok due qua mi tiro due scudini reload scudino due non mi piace questa posizione infatti è venuta qua rifessa qua guarda che posizione che mi siamo trovato proprio ecco sono riuscito a rampinarmi sopra ragazzi c'è gente qua sopra ragazzi c'è gente qua sopra guarda che blocco la porta oh sono sciolto sono solo per il più sciolto uuuuuh mi ero dimenticato che c'aveva lo zainetto d'oro uno niente ho dimenticato di fare reload ecco qua e l'altro vediamo che sono fuori anche lui ecco fatto chi ti sta sparando? chico chico eccola qua dai uuuuuh chico no chico si grande grande chico yes I am the new kill leader il leader uccisioni come lo chiamano in italiano il leader uccisioni il capo uccisioni come lo chiamano in italiano kill leader no? ormai 10 leader kill leader ma anche meglio e non sembra così violento come in italiano il leader uccisioni dai prendiamo questo dai prendiamo questo prendiamo la che c'ho bisogno di lottare 3 squadre anche questa mappa qua è diventata velocissima 5 kill però non so più il kill leader cosa è successo? dai facciamo respawn allavrate veloce veloce shue shue eccolo qua bentornata la squadra lui chico non ha le energy chi è questo? c'è qualcuno? ma c'è qualcuno? chi è? mi rai? mi rai storato? perchè non mi spara? sparami! ma cosa vuole? fare un box? eh prima o poi ti beccherò no? tante pallotole ma cosa vuole? perchè non mi sparava e scappava? non è che non è che volessi fare a pugni io ho rotto il codice dei pugni niente niente mi tocca prendermi flatline qua flatline dai prenditi un po' di eviamo intanto siamo a fine partita io qua ho 70 batterie potrei battereggiare tutto quanto ne ho? 6 più altri 12 scudi schiantiamo un po' di roba break qua è appena stata responata e non ha niente questo facciamo quella flatline che ci è sempre piaciuta probabilmente è una delle mie armi preferite dai ultimo team ragazzi ahhh eccole le energy oh 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 ragazzi ha trovato le energy vado a riprendermi la voc mi hanno scannerizzato sono qua sono qua dai 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 cambia 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 prendi questo grande sali su tetto dove sono? all'angolo? ok ok vabbè sono la zipline guarda cosa facciamo 41 come viola ovviamente lui mi ha portato in azione che voleva arrampicarsi sopra tutto il palo 41 45 rosso figurovi se gli faccio un headshot quando ho lo scoccio grande cico cico sempre in prima linea guardalo 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 pavido col suo gas tiriamo una bella bomba questa loba gli faccio un 68 che è quasi un 69 un 68 dai vai giù vai ecco sei riuscito a spararti una batteria oh ecco fatto abbiamo vinto grande cico e grande break devi cambiare il nome perchè non rimani impresso grande 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 abbiamo vinto beh abbiamo fatto un po' di danni eh quante kill abbiamo fatto tutti assieme 14 14 kill 464 1685 cico molto bene anche Vraid bella patitina eh ragazzi grazie per aver visto il mio video considerate di mettere un like se vi è piaciuto magari fare il subscribe cliccando qua sul logo al centro vi metto altri due video a presto direi wow grazie 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 grazie